Siamo qua in stazione centrale a Milano con l'assessore Alessia Manfredini e abbiamo appena finito l'incontro con l'amministratore di allegato Mazzoncini di Ferrovie dello Stato. Un buon incontro, abbiamo avuto la garanzia del fatto che la progettazione del raddoppio Mantua-Cramona-Milano si farà e abbiamo avuto garanzia del fatto che è una priorità per Ferrovie dello Stato ma non solo, è una priorità sicuramente per tanti e anche per Ferrovie dello Stato. Abbiamo posto poi il tema della velocizzazione dei rapporti tra Cremona e Brescia e poi abbiamo il tema del materiale rotabile e ancora del miglioramento ancora a regione. Infine abbiamo posto il tema e stiamo ragionando, ci possono essere delle soluzioni interessanti del collegamento tra Cremona e i centri dell'alta velocità. Un buon incontro insomma, ma noi non ci accontentiamo e continuiamo a lavorare anche se mamando.